Quindi la seconda garanzia di serenità è questo, noi abbiamo il dovere di essere ogni momento noi stessi, senza vergognarci di ciò che bolle in pentola dentro di noi, perché lui è stato uomo come noi e quindi sa che cosa significa, abbiamo la certezza di essere capiti non giudicati, capite la differenza? La differenza è molto semplice, quando tu giudichi cristallizzi una persona, è come se tu la rendessi inamovibile, così è e così resta, quando tu capisci una persona tu scopri i meccanismi e allora puoi aiutare la persona a cambiare, perché tante volte basta tirar via lo spinotto e le ruote riprendono a girare. Ma se tu giudichi e basta è finita, per questo Dio ha mandato suo figlio non a giudicare, per questo la lettera agli ebrei dice che quell'uomo Gesù che è anche Dio capisce l'umanità perché è uomo anche lui. Capire è la chiave della soluzione dei problemi, giudicare non risolve mai niente. Bene, se dunque noi partiamo da un perdono di Dio, siamo chiamati a perdonare e concludiamo la nostra storia con un altro enorme perdono di Dio, teniamo presente che questo perdono iniziale è gratuito, il perdono finale è la risposta al nostro modo di perdonare. Questo si chiama, fra virgolette, collaborazione teandrica, collaborazione uomo-Dio. E infatti quello che i cristiani chiamano la salvezza non è un puro dono di Dio, quasi che tu sia un bamboccione scemo su cui viene calato la salvezza, che tu capisca, non capisca, che ne so tanto, sei salvato lo stesso. Non è proprio così. Testo dell'Apocalisse, siamo alla linea 78. Gesù dice, ecco, sto alla porta e busso. Ma lui è onnipotente e Dio può venire e invadere? No, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce ed ascoltare la sua voce significa aprirgli la porta, è un'immagine aprire la porta. La sostanza è ascoltare la sua voce. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui e ce n'erò con lui ed egli con me. Buon appetito. Non è questo. In Oriente, mangiare con il Messia significa essere salvi. Dove sta la salvezza? Ascoltare la sua voce. Però deve essere una scelta tua. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, tu puoi non ascoltarla. Dunque, la prima sinergia tra Dio e uomo è questa. Ascoltare la sua voce. Ce n'è un'altra. E ci accorgeremo che il tema ruota sempre attorno a questo dato. La parola. Vangelo di Giovanni. Siamo nell'ultima cena. Gesù sembra preso da un impeto. E parla, parla, parla. E tra queste cose che dice c'è anche la seguente. Linea 80. Io sono la vita vera. E il mio padre è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, sac, lo taglia. E ogni tralcio che porta frutto, tua nonna. Guardate il verbo greco. Catairei. Cataros. Vuol dire puro. Catairei. Non vuol dire potare. Vuol dire purificare. La traduzione potare è una traduzione che segue l'asse semantico della viticoltura. Stiamo parlando della vite. Cosa fa? Uno lo taglia, l'altro lo purifica. No, sì, lo pota. Questo è un ragionamento sbagliato. Tu devi stare a ciò che il testo dice, punto chiuso. Venerdì ho fatto un... Poi siamo andati a bere il caffè insieme, ma ho fatto una barufa con il mio collega. Per un volgarissimo pronome. Uthos, nel greco lennistico, vuol dire egli. Autos, scusate. Autos vuol dire egli. Uthos vuol dire questo. Non è la stessa cosa. Quando io dico questo, non dico questo. Quando dico egli, tanto dico una persona, se no dico esso. Ma è chiunque. questo è qualcosa di preciso. Perché lui ha bocciato una ventina di studenti i quali avevano tradotto Uthos questo. E lui dice no, egli. Dico hai sbagliato tu, non loro. Allora bevendo il caffè mi ha detto non dirlo. Infatti ho detto il peccato, ma non ho detto il peccatore. Prima Dio, poi il testo, poi la chiesa. Chiaro? Prima Dio, poi il testo, poi Bergoglio. Bergoglio viene al terzo posto. Don Renatole è protestante. No. Io sono prete cattolico. E vi ho appena citato la Dei Verbum, che è un documento, una costituzione, cioè il massimo dei documenti di un concilio. Dei Verbum è un documento del concilio Vaticano II. Chiaro? Dove Paolo VI dice noi e lo Spirito Santo ti è. Abbiamo deciso che è giù. e in questo documento si dice una cosa di questo tipo. Dio, testo, chiesa. E il testo, dunque, va rispettato per ciò che è, non per ciò che noi vorremmo che fosse. Ogni traggio che in me non porta frutto lo taglia e ogni traggio che porta frutto lo purifica perché porti più frutto. Voi siete già puri. Notate il verbo alla linea 81 katairei e notate l'aggettivo alla linea 82 kataroi. Allora c'è un nesso. Il Padre taglia i rami secchi e i rami invece che producono li purifica ma non tagliandoli. Ecco perché il verbo potare non funziona. Perché subito dopo al versetto 3 viene spiegato come li purifica. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Sì? Avete capito perché il verbo potare fa molta poesia ma non rispecchia il testo. Rimanete in me e io in voi. Adesso entriamo in medias res. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita così neanche voi se non rimanete in me. Ovvio. Io sono la vita e voi i tralci. Chi rimane in me è io in lui. Il versetto 4 ha fatto un discorso generico. Qui comincia a fare un discorso personale. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. sì ma il problema è cosa significa rimanere in me e io in lui. Perché il testo è bello poetico ci affascina ma la razionalità illuminista che abbiamo in testa ci dice che cosa vuol dire. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio quello che non porta frutto. e si secca poi lo raccolgono lo gettano nel fuoco e lo bruciano. L'inferno no la Ghenna che era la valle era il letamaio di Gerusalemme cioè cose inutili che non servono più a niente. se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi quel io in voi io in lui che cosa significano? Le mie parole rimangono in voi quindi il fatto che Cristo resti in noi non è poesia il dato concreto è che le sue parole restino dentro di noi e rimanere in lui? Boh no no non dite bo perché il Vangelo di Giovanni viene scritto alla fine del primo secolo tra il 96 e il 100 dopo la persecuzione di Domiziano siamo qui fate retromarce siamo verso l'anno 57 58 Paolo scrive la lettera ai Romani quindi Giovanni conosce la lettera ai Romani e la lettera ai Romani dice quella frase che io ripeto spesso Paolo parla del battesimo come dell'innesto del rametto nella pianta e la traduzione italiana invece di dire voi siete innestati in Cristo e si capirebbe subito voi siete intimamente uniti ma va sinfitoi vuol dire innestati non vuol dire intimamente intimamente uniti intimamente uniti non è una traduzione corretta sinfitoi vuol dire innestati questo significa rimanere in lui rimanere rimanere nella logica che il battesimo comporta e qual è la logica credere in un cammino progressivo nei suoi confronti fine fine è così chiaro dunque questa sinergia uomo-Dio ce l'abbiamo quando l'uomo accetta di essere abitato dalle sue parole non quando l'uomo fa no perché quando le sue parole entrano in te prima o dopo se le prendi sul serio ti fanno agire certo se non le prendi come non so Texville Roma Falda è ovvio che non ti fanno agire bene comprendiamo adesso e arriviamo già alla pista di atterraggio che la domanda ma prima perdona Dio e poi noi oppure prima perdoniamo noi e poi Dio nello schema che abbiamo visto è solo uno schema perdono di Dio perdono di Dio perdono dell'uomo comprendiamo che questa domanda è perfettamente inutile però è giusto chiarire mentre Matteo è più propenso a sottolineare il cammino dell'uomo Luca è più propenso a dire qual è il punto di partenza però tutti due fondamentalmente dicono la stessa cosa uno sottolinea di più il tragitto l'altro sottolinea di più l'inizio la lettera l'iefesini è un testo scritto da un discepolo di Paolo non da Paolo il quale sottolinea il punto di partenza perché dice poi tutto il resto viene in automatico problematico problema è l'inizio siate invece quel D che trovate la linea 98 fra parentesi quadra è un problema di critica testuale in alcuni manoscritti c'è in altri no è un po' dire qual era il testo originale uscito dall'ultimo redattore e allora ve l'ho messo fra parentesi perché è giusto che sappiate che c'è incertezza non cambia niente il concetto di fondo non cambia è solo la curiosità di sapere se c'era questo D che si oppone a un men precedente o no insomma siate benevoli gli uni verso gli altri andate la linea 98 e leggete la penultima parola è un gioco sottilissimo perché così come lo leggiamo noi è chrestoi che vuol dire benevoli ma se voi lo pronunciate con la pronuncia roichiliana cioè con lo iotacismo viene fuori cristoi ci siete e allora siate siate invece benevoli o altrettanti piccoli Gesù Cristo gli uni verso gli altri guardate che il mondo orientale ci prende per i fondelli sempre noi abbiamo l'alterigia di dire sappiamo più di loro può anche darsi ma che loro ci prendano per il naso è sicuro per cui a queste cose bisogna stare sempre molto attenti siate invece chrestoi christoi bu gli uni verso gli altri misericordiosi guardate il vocabolo eu splagn splagna sono le viscere cioè siate positivamente a livello di sentimenti rapportati agli altri carizomenoi caris in greco vuol dire grazia quindi si perdona gratuitamente traduzione perdonandovi è giusta concetto è giusto bisognerebbe di per sé tradurre graziandovi a vicenda come Dio ha graziato voi in Cristo questa è la traduzione letterale graziandovi quando tu perdoni sappi che non stai facendo una compravendita lui ti dà il pentimento e tu gli dai il perdono no? il perdono è grazia capite la strada che dobbiamo fare? per entrare dentro a questa logica leggetevi con tranquillità la parabola del figlio al prodigo grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.